No, no, eh, dammi le macchette, dammi le macchette. Fumo, 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 no, no, forse, assolutamente no. Benissimo, ecco, vabbè. Oh, capo, 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 capo LARGO AL FACTO DE LE CITTO LARGO AL FACTO ZUNDE LE CITTI nous SAMPO non help you che bel piacere per un barriere di qualità, di qualità come sta il mare? per i giornalisti sapo a vigna ho il telefono sanzo randonneo della corrisimo, della corrisimo della successo, la 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 avevo due carne, un pezzo così fumo a braccio, fumo a braccio io sono John ho panaricca la USA attaccato no Vieni toman per a tutti i soldati. Posso? No. Posso assolutamente si fumo 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 no si fumo no e si si fumo 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 no ma adesso si che fumo a me per primo si costa 75 euro ma solo quello 50 milioni al mese ma benissimo e si non io come ho detto questo lo dico un'altra volta e si posso no in piazza si a ora si ah no 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 Pile 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 p Ciao ragazzi Ciao ragazzi Sono Islander DJ In compagnia di Danny B Ciao Se questo video è stato di vostro gradimento Mi raccomando Scoliciate Mettete tantissimi mi piace Soprattutto condividete Ok ma adesso io che devo fare Suona Islander DJ Suona Islander DJ Suona Suona Islander DJ Suona Islander Suona Per noi Islander DJ